Lunedì sui banchi anche gli studenti delle superiori. Dopo una settimana in cui anche quelli delle scuole medie sono tornati alla didattica in presenza, terminato questo weekend toccherà anche ai ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado. Non tutti però, solo la metà degli studenti delle superiori riascolterà lo squillo della campanella. Per il 50% infatti rimarrà la didattica a distanza in attesa di un rientro a scuola graduale. Secondo il piano della regione, a partire dalla settimana successiva dovrebbero tornare in aula a tre studenti delle superiori su quattro, ma bisognerà attendere i dati epidemiologici. Se infatti il trend dei nuovi positivi, dei ricoveri e dell'indice R con T dovesse continuare a peggiorare, la didattica in presenza sarebbe nuovamente messa in discussione. Anche il 2021 quindi si presenta con le elezioni a Mozichi e Bocconi, con la didattica che continua ad essere compromessa dall'incertezza. Il nodo cardine attorno a cui ruotano le preoccupazioni non è tanto quello dello stare in aula, dove generalmente sono rispettate tutte le prescrizioni anti-covid. Piuttosto si temono gli assembramenti all'entrata e all'uscita, per cui si stanno vagliando ingressi scaglionati. Ma soprattutto il punto debole è rappresentato dal trasporto pubblico. Ogni mattina infatti studenti e pendolari affollano gli autobus, che diventano luoghi ad alto rischio contagio. La capienza sui mezzi è ridotta, ma proprio per questo rimane è difficile soddisfare la domanda di tutti coloro che hanno necessità di spostarsi via bus. Quando possibile accompagnate personalmente i figli a scuola, ha dichiarato l'assessore regionale della sanità Nicoletta Verì, rivolgendosi ai genitori. Ma questo ovviamente non può bastare, soprattutto se, come ci si augura, si torni alla completa didattica in presenza. Non si riesce proprio a comprendere la fretta di riportare anche le scuole superiori in presenza, incalza la CISL Scuola Abruzzo Molise. Lo scenario non è sicuramente quello di una riapertura in sicurezza. I dati dei contagi sono allarmanti. Il numero di contagiati attivi al momento è di cinque volte il numero massimo della prima ondata. Non c'è una situazione complessiva tale da poter riaprire in sicurezza le scuole superiori. Il sindacato chiede di rinviare anche in Abruzzo il ritorno a scuola, così come deciso in altre 14 regioni italiane, piuttosto che ricorrere a formule quali quella del 50 o 75%, dei giorni alterni, degli orari sfalsati, delle alternanze settimanali che destabilizzano ulteriormente l'attività didattica. Noi chiediamo invece di attendere ancora uno scenario che possa effettivamente permettere un rientro in sicurezza e quindi da discesa ulteriore di questi dati il rinvio di qualche settimana. Ma la Regione tira dritto. Dobbiamo essere pronti per quando il Governo permetterà un rientro maggiore degli studenti in classe, fa sapere il sottosegretario alla Presidenza, Umberto D'Annunzis. 120 pullman in più e 417 corse aggiuntive per quanto riguarda il trasporto, continua D'Annunzis, e gli ingressi scaglionati per quanto riguarda la scuola garantiscono la riapertura in sicurezza.